Pomeriggio 5 accade qualcosa di piuttosto curioso. Durante la diretta un'inviata di Barbara D'Urso racconta l'approccio degli italiani alla fase 2 da uno dei parchi che ha riaperto i battenti dopo la fine del lockdown. Sono però ancora in vigore alcune regole per i bambini e per i runner che non tutti rispettano. C'è chi se ne approfitta. L'attenzione viene però catturata da un uomo alle spalle dell'inviata di Pomeriggio 5 mentre passeggia nel parco. L'uomo si accorge delle telecamere e si cale i pantaloni mano a mano che si allontana mostrando così il lato B in diretta televisiva. Che ne pensate di questo gesto? Si sarà accorto che era proprio l'inviata di Barbara D'Urso? Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate like di supporto.